Musica Prosegue il viaggio nel mondo della danza al teatro Antonio Ghirelli di Salerno. La fondazione Salerno Contemporanea, impegnata nella scoperta e nella valorizzazione di nuovi linguaggi dello spettacolo e della comunicazione, affiancata dall'associazione Access Salerno 100% Ollus, promuove Danzabile. Durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi questa mattina al Teatro Stabile d'Innovazione Antonio Ghirelli, Maria Teresa Ingino, responsabile del progetto, ha accuratamente spiegato finalità e obiettivi del laboratorio. Il palco come punto di fusione tra abilità e esperienze diverse, un momento di realizzazione di piccoli, grandi desideri. Una danza universale, senza barriere né diversità, di cui sono prova le due studentesse presenti alla conferenza, Anita e Angela, che hanno illustrato la loro personale esperienza. Chiunque può ballare perché la disabilità non esiste. Un laboratorio innovativo basato sulla Dance Ability, la tecnica del movimento, che nasce col presupposto di offrire anche alle persone con disabilità la possibilità di esprimersi attraverso la danza. Presenti Antonio Bottiglieri, presidente Fondazione Salerno Contemporanea, Giuseppe Giannattasio, presidente Access Salerno 100% Ollus, Giussi Tesone, responsabile danza Fondazione Salerno Contemporanea e Gianluca Memoli, consigliere comunale. In chiusura, l'intervento del sindaco di Salerno e vice ministro alle infrastrutture e trasporti, Vincenzo De Luca. Siamo orgogliosi di questa iniziativa, che lega cultura, solidarietà, sensibilità umana, parte di una rivoluzione culturale che stiamo portando avanti in questa città. Grazie.